Domani ci sarà la prima rassegna del Natale, il periodo natalizio che è dentro il cartellone regionale internazionale Salve Regina Celitum, che è un cartellone della Course Inside Sicilia, che è promossa, sostenuta dal Ministero della Cultura e questo è anche il contributo dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. Domani appunto nella bellissima Chiesa Madre di Caccamo ci sarà il canto di Natale nel mondo dove ospiterà ben cinque formazioni corali ed una bandistica. Saranno circa 130 elementi coinvolti in questa bella chiesa sotto il castello di Caccamo che nel pomeriggio già vede coinvolta la cittadinanza per altri eventi legati sempre al Santo Natale. Voglio citare i protagonisti perché è anche giusto farlo. Ci sarà la banda Città di Cala Scibetta e il coro sempre della stessa associazione Antonio Giunta diretti dal maestro Antonio Capizzi, Carmelo Capizzi, il coro polifonico Santa Rosalia di Prizzi diretto dal Giorgio Migliaccio, poi ci sono le mie due formazioni corali la scuola Cantorm Soli Deo Gloria della parrocchia San Basilio Magno e il coro Laudate Dominum che quest'anno fa 30 anni di attività. Ci sono anche dei solisti presenti, Susanna Lafiura Soprano, Marco Tunnirello Baritono, il maestro Paolo Gurreira al pianoforte che accompagnerà. Vogliamo ringraziare anche il parroco che sembra scontato ma che apre le porte di questa bella chiesa, Don Giacomo Miglianta e l'amministrazione comunale di Caccomo che ha accolto questo evento del Ministero della Cultura.